Presidente Mauro Castelli, raggiante stasera, è una partita veramente eccezionale. La partita, ovviamente il risultato lo dice da sé, questo senza dubbio. Non ci scordiamo però, con questo risultato non deve farci assolutamente gonfiare, perché delle volte il campo dà delle visioni che poi la realtà è un'altra. Val di Siamo è una squadra forte e deve avere il nostro rispetto sempre, perché è una squadra che hanno fatto i play-off in gold. La squadra è la solita, oggi credo che fosse mancato anche un giocatore molto importante, quindi dobbiamo fare una valutazione per noi e non tanto per gli altri. Io posso solo dirti che siamo partiti non benissimo, però questa è la seconda volta che non partiamo molto bene, bisogna, probabilmente poi ci saranno i tecnici a dirgli, però mi abbiamo recuperato e io se ho una pecca può essere quella che mi avrebbe fatto piacere vedere più qualche minuto qualche ragazzo in campo. Però detto questo, buono, buona la prima, per Arezzo è importante, è giusto prendere tutti i tempi che ci vogliono per poter arrivare a quello che è il progetto finale. Grazie.